E' finita questa stagione teatrale del Mecenate? Purtroppo sì, nel senso che è stata una stagione molto bella, molto ricca di grandi spettacoli, di altissima qualità e quindi è finita con Gli innamorati di Goldoni, con la regia di Andrè D'Utciamà. Una punta di soddisfazione c'è perché ho inserito tre compagnie di giovanissimi, quindi non conosciuti al grande pubblico, bravissimi, compreso Gli innamorati dell'altro giorno, che sono stati apprezzatissimi. Quindi quando si riesce a far conoscere al grande pubblico non solo i nomi già noti, ma anche i nomi che diventeranno molto noti, secondo me sono molto soddisfatto di quello che ho fatto perché è anche la mission della mia attività. Questi spettacoli teatrali c'era un ricordo importante per Ilaria Alpi? Sì, assolutamente, c'era uno spettacolo molto bello con un ricordo su Ilaria Alpi, fra l'altro fatto in collaborazione con una compagine tutta retina che era parte dell'orchestra multietnica e quindi uno spettacolo che mi ha dato molta soddisfazione per la bravura naturalmente dell'Aragonese, ma anche per la partecipazione e l'ottima qualità, la grande bravura dei nostri artisti aretini.